Un prestito oneroso a 300.000 euro con diritto di riscatto a 5 milioni per l'ex esterno-sinistro dei Newell's Old Boys che firmerà un contratto da 450.000 euro più bonus per il primo anno. La Juventus aveva impostato la trattativa a metà luglio, però l'ha chiuso soltanto adesso che si erano ridotte le possibilità di mercato. In questi ultimi giorni però non finisce qui perché si proverà anche l'assalto a Malouda del Chelsea. Grazie a tutti.